Beh, noi partiamo da una sconfitta, quella del 4 marzo, ci stiamo organizzando, penso che dentro lo schema del Partito Socialista europeo dobbiamo rimanere, dobbiamo restare perché ne siamo convinti, ma nello stesso tempo dobbiamo fare il Partito Democratico e quindi aprire porte e finestre, comporre liste che siano all'altezza della sfida, avere attenzione verso tutti quegli elettori che non ci hanno votato, che se ne sono andati, che sono stati delusi da noi, dobbiamo comprendere quella delusione e credo che questi mesi serviranno esattamente a preparare la battaglia. Ma noi siamo dentro la cornice del Partito Socialista europeo, siamo un pezzo importante, pensiamo che a casa propria tutti i partiti socialisti debbano aprire porte e finestre, allargare il proprio campo, abbiamo delle situazioni di difficoltà in alcuni paesi, anche noi stessi partiamo da una sconfitta, quella del 4 marzo, abbiamo la necessità, come ha detto bene Gentiloni l'altro giorno, di avere un fronte da Macron a Tsipras che dia la sensazione che i progressisti italiani sono protagonisti di questa battaglia, di questo assalto molto forte della destra italiana ed europea. Abbiamo bisogno nello stesso tempo di far crescere le sensibilità di tutti i partiti europeisti. Ognuno faccia la propria parte, ognuno apra le proprie porte, le proprie finestre, lo facciano i popolari europeisti, i liberaldemocratici, lo facciano i verdi, lo faccia naturalmente il Partito Socialista, che in questo momento ha dei paesi che sono davvero importanti per cambiare l'Europa, pensiamo alla Spagna, al Portogallo, esempi anche di buon governo, di ricette che in qualche modo stanno facendo dimenticare i periodi dell'austerity. Abbiamo le energie giuste. In Italia noi siamo determinati ad accogliere la battaglia, non ci sono i liberaldemocratici da noi e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di mettere in campo un fronte ancora più largo degli altri. Lo possiamo fare, ci sono le energie, il mondo di più Europa è certamente un interlocutore. Abbiamo delle esperienze di movimenti, di personalità che possono aiutarci in questa battaglia.